Grazie a Country Zone, la scuola di line dance di Salerno, il numero che ci verrà presentato questa sera, con le coreografie di Gino Balcalcio, grazie a Denise e a Annalisa, si balla e si cavalca a dorso di muro, il numero, continuavano a chiamarlo Trinità, anche, sì, anche con il suo muro, lui da Angri è Giulio Longobardi, grazie a tutti 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 Grazie a tutti